E già al lavoro Patrizia Scaramazza, la nuova segretaria generale del comune di Teramo, nei giorni scorsi ha preso il posto del suo precedessore Sergio Iezzi, andato in pensione avviando la propria attività al servizio dell'ente. Ad accoglierla in municipio, oltre al segretario generale uscente, c'erano il sindaco Marizio Brucchi, gli assessori e i dirigenti del comune. Innanzitutto è una donna, così magari la facciamo anche finita con questo fatto che il sindaco Brucchi nomina solo uomini, invece ha nominato una donna, capace, preparata, viene da un comune marchigiano, abruzzese, perché di Pescara rientra a Teramo, quindi insomma sono tutte le premesse perché si possa far bene, come abbiamo fatto in questi cinque anni con il dottor Iezzi, che ringrazio, perché per l'aggiunto i limiti d'età ci lascia. C'è una fase nuova, fase nuova dettata anche dalle nuove regole che il governo ci impone, c'è la spending review, c'è la rivisitazione della pianta organica, c'è l'accorpamento dei settori e dei servizi, c'è tanto lavoro da fare, il ruolo del segretario generale è un ruolo molto importante, perché è il garante di tutta l'attività del comune, quindi un ruolo importante e difficile, ma sono certo che guardando il curriculum della dottoressa sarà all'altezza di questo importante ruolo. Qualche priorità? Priorità sicuramente la revisione della spesa, priorità sicuramente la nuova pianta organica, che abbiamo già iniziato, come voi sapete, per quanto riguarda gli uffici tecnici, abbiamo detto che l'obiettivo dell'amministrazione è arrivare a cinque dirigenti, quattro aree funzionali, quindi l'area tecnica, le tre aree amministrative, la vocatura, questo è l'obiettivo da perseguire da qui nei prossimi due anni, appunto per risparmiare e ridurre la spesa di due dirigenti, perché bisogna fare economia, e poi ristrutturare un po' la macchina amministrativa con l'obiettivo che al centro di questa ristrutturazione ci sia il cittadino, per noi l'obiettivo è il cittadino, quindi dobbiamo modificare e migliorare i nostri servizi e migliorare il rapporto col cittadino.